Quest'oggi siamo invitati ad andare al testo, al testo della lettera, con una operazione che sarà, io l'annuncio già, molto faticosa, perché dovremo quasi alcune volte in maniera microscopica cercare di fermarci su indicazioni testuali. E' una fatica questa, ma io penso una fatica che permetta di vedere anche quasi in presa diretta la ricchezza di una pagina come quella legata a Paolo. Abbiamo già detto l'ultima volta che se anche non fosse Paolina appartiene comunque a questo orizzonte che è stato alimentato dalla figura dell'Apostolo. Prima però di iniziare questo itinerario nell'interno del testo, questo viaggio testuale, vorrei indicare un piano di lettura di questo scritto, cioè lo spartito, la struttura di questa lettera, che pur essendo composta di soli sei capitoli, costituisce però una sua, un vero e proprio disegno non sempre di facile identificazione. D'altra parte abbiamo una linea di frontiera che tutti possono facilmente individuare. La lettera ha una netta distinzione dopo il capitolo terzo. Infatti vi accorgete che giunti al termine del capitolo terzo l'autore abbandona la prosa e si indirizza verso una specie di slancio lirico, si orienta verso quella che si usa a chiamare tecnicamente una dossologia, cioè un'invocazione, un canto, a colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. Amen. E tutti comprendono che la stessa clausola, la stessa conclusione fa capire chiaramente che l'autore sta finendo una tappa del suo discorso. E questo è confermato anche dal fatto che il capitolo successivo comincia con un vi esorto dunque più un imperativo e questo modo di costruire la nuova parte tipica anche di Paolo. Nella lettera ai Romani, dopo la lunga grande meditazione teologica che abbraccia i capitoli 1-11, giunto al dodicesimo capitolo, anche in quel caso Paolo comincia con questa formula, vi esorto dunque. Siamo quindi naturalmente in presenza di due parti che possiamo così definire. Quella dei primi tre capitoli è una parte più contemplativa, è una parte più teologica, è una parte di riflessione nell'interno del mistero. La seconda parte invece è una sezione di tipo parenetico, cioè di tipo esortatorio, di tipo morale, anche se i temi evidentemente oscillano, sconfinano, non rimangono nell'interno di un unico territorio o di un'unica area. Distinti quindi i due grandi ambiti della lettera, i capitoli 1-3 e 4-6, possiamo anche notare che esiste un'altra cesura, cioè un'altra piccola frontiera nell'interno della prima parte, quella che noi soprattutto e non esclusivamente oggi considereremo. Ovvero sia, preso il capitolo primo e esaminati i versetti 14 e 15, ci si accorge anche lì che l'autore cambia registro. Infatti, nell'interno dei versetti precedenti assistiamo a un movimento chiaramente di tipo innico, come avremo occasione di dire. Paolo, l'autore, canta, canta il mistero di Dio. Giunto a questo punto in finale cambia il registro e inizia una riflessione che invece è molto più in prosa, è una riflessione molto più concreta, molto più diretta e immediata, non è più affidata alla pura e semplice contemplazione, all'ammirazione. Infatti la finale è, in attesa, il versetto 14 finisce così, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato, all'ode della sua gloria. Come vedete qualcosa di simile alla finale del versetti 20 e 21 del capitolo terzo che abbiamo letto poc'anzi e subito dopo abbiamo, perciò anch'io avendo avuto notizia della vostra fede, quindi notate che esiste un altro taglio nell'interno della lettera da considerare. E questa linea di demarcazione è contrassegnata appunto dal passaggio, da un inno alla prosa. Allora possiamo concludere queste brevissime considerazioni di tipo strutturale, cioè sull'impianto, dicevo lo spartito di questa lettera, presentando i movimenti con cui noi, con cui voi, quando leggerete integralmente questo testo, vi dovete mettere quasi in sintonia e i movimenti sono. Paolo comincia, dopo il saluto tradizionale, comincia con un grande inno. Questo inno è un prologo, come nel Vangelo di Giovanni, come avverrà vedremo nella lettera ai Colossesi. Questo grande inno può essere anche in teoria un'interpolazione, può essere citato, può essere un inno cantato nella chiesa di Efeso, cosa molto difficile, io ritengo. Può essere invece una composizione dell'autore stesso, il quale in apertura vuole quasi idealmente disegnare una specie di manifesto, vuole quasi in apertura presentare un fondale, nei cui confronti colui che camminerà alla ricerca della verità con lui abbia sempre a riferirsi. E dall'altra parte, l'autore, una volta concluso nei primi quattordici versetti questa specie di canto, in realtà dal capitolo primo, versetto tre al quattordici, comincia poi un percorso a due movimenti. Primo movimento occupa, dal versetto quindici del capitolo primo fino al capitolo terzo, versetto ventuno, occupa una parte, una porzione della lettera che chiameremo teologica, che ha per tema il mistero di Dio in Cristo, fondamento della chiesa. Quindi vedete una riflessione quasi triangolare, ma in realtà profondamente intrecciata, Dio nel suo mistero infinito, Cristo e la chiesa. E la seconda parte, dal capitolo quarto fino a tutto il capitolo sesto, è invece una riflessione sulla vita nuova, l'esistenza del cristiano nell'interno della chiesa. Quindi l'invito mio è sempre a tenere presente che gli autori, gli autori del Nuovo Testamento in maniera particolare, procedono sempre con un piano di lettura, con un piano anche di ammaestramento. E questo piano perciò ha due temi, la chiesa, letta, vedremo oggi, in chiave cristologica, secondo la vita cristiana. Come vedete teologia e morale messi insieme. Ed è questo in pratica il doppio registro teologico sul quale si muoverà sempre Paolo. Innanzitutto la riflessione fondativa, le ragioni profonde del credere, e poi successivamente il credere che diventa esistenza. Una volta che io ho trovato le ragioni, queste ragioni diventano anche norma del mio agire. Iniziamo allora questa riflessione. Io svilupperò quattro temi, meglio quattro dimensioni, non so se riusciremo nell'interno di questa lezione unica a riassumerli, a presentarli tutti, però ne considereremo quattro. E questi quattro elementi sono in realtà quattro dimensioni della fisionomia della chiesa, del profilo della chiesa, come si diceva nel titolo. Che Paolo, o che l'autore noi per ora chiamiamo sulla base della pseudonimia, come abbiamo detto, sulla base del fatto che anche la lettera stessa si presenta come scritta da me, Paolo, io, Paolo, l'apostolo Paolo presenta ai suoi ascoltatori, ai suoi lettori, primo elemento, prima dimensione, primo aspetto di questo profilo generale. è la dimensione strettamente teologica, ed essa è sviluppata nell'interno proprio di questo grande inno, che poi, se avremo tempo, cercheremo di leggere di seguito, perché è un inno, tra l'altro, di grande bellezza e densità teologica. Ancora una volta, io chiedo, veni a tutti coloro che mi ascoltano adesso, se non hanno mai, magari, sentito, se non qualche volta per eco, hanno sentito il greco, io dovrò continuamente fare riferimento al greco, anche perché la traduzione, purtroppo, in più di un punto, è molto carente questa traduzione, la traduzione che si usa anche nella liturgia, o comunque richiede tutta una serie di precisazioni. Il punto di partenza, dunque, è la presentazione della Chiesa, della comunità dei credenti, come affondata, diremmo quasi, immersa nell'infinito silenzio del pensiero divino, nell'infinita mente di Dio, in questo sconfinato oceano di pensiero, di luce, di verità, di amore, che Paolo tenta in qualche modo di far balenare attraverso il canto, essendo forse insufficiente la pura riflessione. Paolo innanzitutto afferma che la Chiesa, che la comunità quindi dei credenti, è stata concepita da Dio prima ancora della fondazione del mondo e fa parte di un progetto, di un immenso, sterminato, eterno, infinito, indecifrabile anche, progetto di Dio. Per esempio, lo abbiamo, sentiamo nel versetto quarto, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Nel versetto quinto, ritorneremo, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi. Nel versetto sei a, secondo il beneplacito della Sua volontà, traduzione anche questa problematica, come vedremo, perché l'originale greco è molto più ricco. Poi ancora nel versetto undici, in Lui siamo in Cristo, siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di colui che tutto opera efficacemente. Su questo versetto ritorneremo parola per parola. Come vedete c'è un piano, un progetto, un beneplacito, prima ancora della fondazione del mondo. Ecco, appare qui il tema della predestinazione. Naturalmente, il tema della predestinazione, noi di solito l'abbiamo in mente col linguaggio tante volte anche un po' deformato, bisogna dire, sia pure con fondamento, con elementi che sono esatti, ma un po' deformato. Ce l'abbiamo in mente con il linguaggio della polemica calvinista o anticalvinista. La predestinazione, come Paolo la concepisce, soprattutto in questa lettera, le lettere degli Efesini rispetto ad altre lettere, è in realtà semplicemente la definizione di un perimetro, e questa parola è scelta intenzionalmente, lo vedremo subito, di un perimetro quasi nella mente di Dio, di un confine entro cui Dio ha collocato una realtà che, proprio perché è nel pensiero, nella mente di Dio, deve essere poi efficacemente realizzata nell'interno della storia. Perché il pensiero di Dio non è come il pensiero dell'uomo, il quale può essere anche semplicemente fantasia, può anche non tradursi in realtà, può anche non avere poi un'efficacia. Il pensiero di Dio, invece, è sempre di sua natura operativo, è sempre di sua natura decisivo, è sempre di sua natura incisivo, poi, nell'interno della storia. Infatti, noi abbiamo un verbo in greco che viene usato da Paolo, viene usato nel versetto 5 e nel versetto 11. Questo verbo greco è prorizzo, prorizas e proristentes, prorizzo. Questo verbo letteralmente significa stabilire un confine prima, cioè egli immagina che in Dio ci sia già un disegno che è ben definito, ben netto, però è un disegno, vedete, pro, prima. Lo si ripete ancora, questo pro continua ad essere, questa preposizione pro, che vuol dire prima in greco, continua ad essere ripetuta. Nel versetto 4 si diceva prima della creazione del mondo, pro. Poi ancora, nel versetto 11, quando si parla del piano, traduce il testo della Bibbia che avete anche voi tra le mani, il piano in greco è protesis, qualcosa che è posto prima, protesis. e abbiamo nel versetto nono ancora una volta lo stesso verbo, la stessa espressione, aveva, secondo quanto nella sua benevolenza, aveva in lui prestabilito, e in greco prestabilito è pro eteto, lo stesso termine, protesis e pro eteto sono affini, uno è uno sostantivo, l'altro è un verbo, ha prestabilito, vedete sempre questo pro, prima, dicevo proprio in questo silenzio infinito del mistero di Dio, c'è già questo perimetro, questo confine della volontà di Dio, che si chiama Chiesa, che si chiama Cristo e Chiesa, perché saranno profondamente connessi nell'interno dell'infinito, che è Cristo, che è nell'infinito di Dio, ci sarà questo, quest'area creata, che è quella della Chiesa, della comunità dei credenti, e vogliamo precisarlo, ancora se volete, con dei termini, che Paolo usa, oltre a quelli che abbiamo già visto, abbiamo detto protesis, abbiamo detto prorizzo, ma ci sono degli altri termini significativi, ne vediamo uno nel versetto undici, poi nel versetto nove, poi nel versetto sei, risalendo, cominciamo nel versetto undici, essendo stati predestinati, secondo il piano di colui, che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà, ecco, voi avete capito, che qui c'è subito il discorso dell'efficacia del pensiero di Dio, opera efficacemente, però, che è interessante, proprio questa traduzione, non particolarmente felice, che opera efficacemente, conforme alla sua volontà, in greco, noi abbiamo, kata ten bulen tu telematos, che sono due vocaboli, bulè e telema, che indicano di per sé, è la stessa cosa, è un endia di quasi, cioè una stessa cosa detta con due parole, ed è la volontà, ma con due prospettive, perché c'è una volontà, bulè che è una decisione, e c'è un telema, che è la decisione ormai affermata, per cui vedete che Paolo si preoccupa di definire attentamente in Dio, una volontà, la chiesa, la comunità dei credenti, non soltanto creare l'uomo, ma creare il credente, creare la comunità dei credenti, è una volontà decisa, da parte di Dio, risaliamo al versetto nono, nel versetto nono abbiamo, egli ci ha fatto conoscere, il mistero della sua volontà, ancora una volta, ritorna lo stesso, telema in questo caso, questa volontà decisa, ma va avanti e dice, secondo quanto nella sua benevolenza, benevolenza, e qui benevolenza è una traduzione estremamente pallida, rispetto all'originale greco, che è eudochia, eudochia vuol dire la buona volontà, il desiderio, efficace, fecondo, ricordate, gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini, dell'eudochia, dice Luca, nel canto del gloria, e noi sappiamo che non è la buona volontà degli uomini, come spesso si è inteso nella tradizione, pace in terra, ominibus bone voluntatis, l'uomini di buona volontà, come si suol dire, invece come è tradotto adesso, la nuova traduzione, anche che si legge nella liturgia, pace in terra agli uomini, della buona volontà di Dio, cioè gli uomini che Dio ama, e vedete questa benevolenza è qualcosa di più, non è la generica benevolenza, è un'idea precisa d'amore, che Dio ha, e tornando indietro, ritroviamo ancora questi vocaboli, che sono tecnici ormai per Paolo, questi vocaboli, telema, bule, prima dicevo, eudochia, guardate il versetto, nel versetto 6, la finale, secondo l'inizio del versetto 6, che è la finale del versetto precedente, secondo il beneplacito, della sua volontà, e beneplacito, se vi andate a vedere in greco, abbiamo, kataten eudochian, tu, telematos, autu, anche quelli che non sanno il greco, sentono, che ricordano le stesse parole, eudochia, telematos, telema, cioè sempre questo progetto, che è volontà, è decisione, è scelta, scelta appassionata, e ormai quasi irreversibile, di Dio, andiamo avanti ancora, dopo aver visto allora, che nell'interno del mistero di Dio, c'è questo perimetro, questo confine, questo progetto, predestinato, nel senso di già disegnato, possiamo anche andare avanti, e capire che questo progetto, fa parte di un progetto più ampio ancora, e su questo tema ritorneremo, cioè, la comunità dei credenti, non è l'unico disegno che Dio ha in mente, anzi, questo disegno fa parte, come di una regione, un territorio immenso, quel piccolo perimetro, si inserisce, in un orizzonte, d'altra parte, possiamo proprio usare i termini, orizzonte, e come sapete, orizzonte deriva proprio dal greco, orizzo, orizzein, quel verbo che abbiamo usato per la predestinazione, pro orizas, definire un perimetro, dicevo, e definire un orizzonte, ecco, c'è un orizzonte ancora più vasto, e questo orizzonte viene definito, nel versetto 10, celeberrimo versetto, che anche esso, deve essere purtroppo spiegato, solo facendo riferimento al greco, e non a questa traduzione, per realizzare questo progetto, nella pienezza dei tempi, il piccolo progetto della chiesa, realizzarlo nella pienezza dei tempi, il disegno, cioè di ricapitolare in Cristo, tutte le cose, quelle del cielo, come quelle della terra, vediamo un po', cosa abbiamo nell'originale greco, il disegno di Dio è chiamato, eis oikonomian, eis oikonomian, per realizzarlo, qui c'è, voi capite che economia, termine che usiamo anche noi, è qualcosa di più di realizzazione, economia, economia significa, al di là dell'accezione popolare finanziaria, economia vuol dire avere una vera e propria, un vero e proprio progetto con scansioni, avere un proprio, un vero e proprio disegno, qual è questo disegno, questa oikonomia, è un'economia, tu pleromatos, pleroma, è la pienezza, sì, ma pienezza, nel senso di totalità, nel senso di riempimento, da parte della divinità stessa, che cosa riempie Dio con se stesso? Riempie, ton kairon, i tempi, noi sappiamo che in greco ci sono i due vocaboli, kronos e kairos, kronos è la cronologia, la cronologia va avanti per suo conto, scandita dagli orologi atomici, scandita dal sole, dal ritmo circadiano, giorno e notte, qui invece Dio entra in scena con un progetto di pienezza, della sua pienezza effusa, in tutti i kairoi, cioè in tutto il contenuto della storia dell'uomo, cioè non nelle ore e nei giorni dell'uomo, ma nelle opere, nel tempo che scandisce l'esistenza, che scandisce la storia dell'umanità, potremmo veramente dire in questo caso, nella pienezza della storia. E che cos'è questo grande progetto, questa grande economia? E' il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, vedete non soltanto la Chiesa, ma tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, e qui abbiamo questa espressione che è tutta da spiegare, tapanta prima di tutto tutte le cose, non solo tutti gli uomini, vedete? Il progetto è un progetto cosmico, è un progetto di tutto l'essere, entro cui si inserisce la porzione privilegiata, che è quella della Chiesa. Ma che cosa vuole fare? E qui c'è un'intuizione, che è veramente suggestiva, perché gioca su un tema, che vedremo essere rilevante, nell'interno della teologia paolina, cioè della teologia della lettera, il tema della, l'abbiamo già accenato l'ultima volta, della chefalee, capo, Cristo capo del corpo che è la Chiesa, qui abbiamo un verbo che è anachefalaiosastai, vedete? Sentite il termine, anachefalaiosastai, e la traduzione è ricapitolare, sentite? Anche qui si cerca in qualche modo di recuperare l'elemento capo, meglio sarebbe tradurre, se volete, intestare, proprio per affermare un riferimento totale, quando si intesta qualcosa, la si giuridicamente, la si dedica in maniera esclusiva, ecco, però l'immagine che forse ha in mente Paolo non è solo quella della testa, del capo, ricapitolare e intestare, ma è anche un'altra immagine, che noi non riusciamo più a capire adesso, voi sapete che i libri allora non esistevano come li concepiamo, non esistevano ma erano rari, i libri solenni erano i rotoli, quelli di pergamena, il papiro veniva fatto a quaderni, anche poi successivamente arriveranno i codici che sono fatti di pergamena, ma allora il rotolo era fondamentale, e il rotolo voi sapete che aveva un'asta attorno al quale si svolgeva, attorno alla quale si svolgeva tutto il testo, lo si apriva, Paolo parte proprio da quell'asta che in greco si chiamava chefa laion, il capitulum, dove la nostra parola capitolo parte di un testo, ecco allora l'idea di Paolo, tutta la storia, che cos'è, tutte le sillabe, tutte le parole, tutte le frasi della storia sono disperse apparentemente, invece nella mente di Dio c'era già questo asse attorno a cui ordinarle, avvolgerle e svolgerle nell'interno di un unico grande testo leggibile, testo comprensibile, scritto dalla mano stessa di Dio, e qui abbiamo veramente una visione che tra l'altro è anche, anche un'allusione nell'interno di un canto che viene fatto una liturgia sinagogale il giorno di Shavuot, cioè il giorno della Pentecoste, quando in un inno si immagina che tutto il cosmo sia come una grandissima pergamena distesa tra terra e cielo dove Dio ha scritto già il suo messaggio e dove gli uomini devono scrivere la loro lode, è bellissima questa immagine di una pergamena distesa tra cielo e terra sulla quale sono scritte parole, parole di rivelazione e parole di lode. Ecco, la Chiesa fa parte perciò di un progetto cosmico e storico molto più immenso ed esteso. Facciamo ancora un passo in avanti nell'interno di questa dimensione teologica della Chiesa. Siamo partiti da quell'orizzonte pro-orisas, la predestinazione, quel progetto, quel perimetro. L'abbiamo visto allargarsi e ora a questo punto dobbiamo ancora una volta restringerlo per arrivare a un punto, un punto specifico che vuole essere affrontato da Paolo. Qual è il destino ultimo di questo disegno? Nell'interno di questo disegno specifico che ha contorni abbiamo visto cosmici, universali, che abbracciano cielo e terra, tempo e spazio. Nell'interno di questo grande orizzonte, l'orizzonte più piccolo della Chiesa, quale finalità ha? Ecco, la risposta è formulata in Paolo con tre diversi linguaggi che sono in un certo senso sinonimi, anche se non sono del tutto coincidenti. Cominciamo col primo. Lo troviamo nel versetto 5, predestinandoci, vedete la Chiesa in questo caso, a essere suoi figli adottivi. Qui Paolo usa un'espressione eis iothesian che è propria di Paolo, anche non solo dell'Ettra degli Efesini, ma che non si trova in tutto l'Antico Testamento greco. Il concetto di adozione filiale non c'è nell'Antico Testamento in maniera esplicita. C'è in maniera implicita. Il re era da considerare probabilmente figlio adottivo di lui, anche Israele, però non lo si usa mai come terminologia tecnica. Paolo invece la usa e sappiamo anche che attinge alla cultura giuridica del suo tempo, alla cultura greca giuridica, dove l'istituto dell'uiofesia era regolamentato, l'istituto dell'adozione. Per cui ecco qual è lo scopo. E voi vedete che Paolo già ci rimanda al figlio, come farà subito dopo. Nel figlio noi diventiamo figli adottivi, ios, è figlio in greco, lui lo chiamerà così poi, il Cristo, ios, il figlio. Noi siamo uiofesia, posti come figli, vuol dire la parola uiofesia, essere posti come figli. Vediamo ancora, seconda espressione, siamo destinati ad essere redenti. la frase la troviamo nel versetto 7 e nel versetto 14, la parola in greco è apolutrosis ed è curiosa per il suo retroterra, che non è più quello giuridico, soltanto almeno, quello giuridico tipico del mondo greco. Questa è invece retroterra biblico e vedremo dove attinge, quali sono le radici di questa espressione. noi siamo destinati ad essere figli edotti ma ad essere redenti. Purtroppo redenzione è un vocabolo che noi usiamo, la redenzione degli schiavi anche si dice così, è un vocabolo che però nel linguaggio clericale soprattutto ecclesiastico è ormai svalutato perché non ha non ha più quella carica che aveva invece nell'originale. Dobbiamo perciò riscoprirlo. Cominciamo prima di tutto a vederlo nel versetto 7 nel quale nel figlio in cui siamo figli abbiamo la redenzione mediante il suo sangue che è la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Ecco una definizione. Poi nel versetto 14 notate la differenza la differenza dei tempi nel quale lo Spirito Santo è caparra della nostra eredità in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato all'ode della sua gloria. Voi vedete che esistono come due momenti in questa redenzione. Cominciamo prima di tutto a dire che cosa vuol dire questa apoliotrosis? Bene, la traduzione greca dell'Antico Testamento indicava la liberazione dalla schiavitù d'Egitto che era visto notate bene non come un atto sociale soltanto atto politico era visto come un atto di parentela e voi direte ma perché mai? Perché il vocabolo ebraico usato là per indicare la liberazione della schiavitù d'Egitto è il vocabolo tipico che rimanda all'obbligo del parente prossimo l'obbligo che incombe sul parente prossimo di liberare un parente il quale sia diventato schiavo questo obbligo si chiama l'obbligo del goel in ebraico cioè c'è un incarico che piomba tu sul padre sul figlio sul fratello sul parente più vicino obbligo che incombe qualora il tuo fratello figlio padre eccetera sia caduto in schiavitù tu devi darti da fare consumandoti ma devi su di te incombe questa esigenza e devi farlo fino a quando non l'hai realizzato tu non sei degno del tuo nome di fratello di padre di figlio allora voi vedete che e se voi andate a vedere per esempio in esodo 4.22 si dichiara dio dichiara prima di cominciare a liberarlo dalla schiavitù del faraone cosa dichiara dichiara israele è figlio mio primo genito capite quindi il collegamento che allora paolo fa con la figliazione adottiva perché dio ci deve rimettere il peccato ci deve liberare dalla schiavitù del nostro limite del nostro male deve donarci la sua stessa vita perché è il nostro parente più stretto che abbiamo e su di lui incombe il dovere della redenzione vedete che non è un'opera quindi così diciamo di generosità è un'opera d'amore è un legame di sangue che giustifica questo intervento divino e questo intervento come ci ha spiegato paolo ve ne siete accorti a due momenti per ora siamo liberati dal peccato dal nostro male ma c'è ancora una completa redenzione che dobbiamo ancora attendere quando dio vincerà anche la schiavitù che incombe in noi della morte e il terzo terza espressione altrettanto suggestiva che troviamo due volte la troviamo nel versetto 11 nel 14 è l'espressione eredità in lui siamo stati fatti anche eredi e ancora nel versetto 14 il quale lo spirito santo è caparra è anticipazione della nostra eredità come vedete ci sono due volte due stadi due livelli anche dell'eredità e ci sono anche due accezioni due significati differenti del concetto di eredità eredità in greco si dice cleronomia che ha dato origine al termine clero anche clero è l'eredità di dio quali sono i due significati che avete noterete se può quando voi poi rileggerete questo testo vi accorgete che non è identico l'eredità prima di tutto noi siamo l'eredità di dio qui il linguaggio dell'antico testamento vuol dire che noi siamo la proprietà più preziosa sua nell'antico testamento si usava anche l'immagine segullà che vuol dire quella piccola piccola parte del greggio che un pastore aveva come propria alcune pecore erano solo sue mentre lui poi doveva avere un greggio più ampio che era quello del padrone quello che veniva affidato lui alla cura alla custodia ma il suo amore era per quel magari erano solo tre pecore e due capre ma l'amore era per quella piccola porzione ecco nell'antico testamento israele è definito come segullà è intraducibile se non forse in latino o anche un po' giocando anche sull'italiano derivando in latino gerolomo ha tradotto con molta acutezza sentite bene segullà peculium pecus l'armento il greggio proprietà peculiare ecco è la parte nei cui confronti Dio si sente più legato ecco qui questo concetto l'abbiamo indubbiamente nel 711 in lui siamo stati fatti i suoi eredi e quindi il concetto è un po' diverso dal nostro ereditiamo qualcosa da parte di Dio è che noi siamo il suo possesso però il concetto di eredità appare in finale nel versetto 14 quando si dice lo spirito santo è caparra della nostra eredità di ciò che erediteremo da nostro padre e vedete che allora ritorniamo e mettiamo insieme un po' tutti i vocaboli sarà la vita divina la vita di comunione eterna infinita con Dio vedete che mettiamo insieme tutte e tre questi vocaboli che definiscono il destino della comunità dei credenti secondo Paolo li mettiamo insieme in un'unica costellazione di significati infatti abbiamo all'inizio noi siamo diventati figli adottivi essendo figli quando cadiamo sotto il peccato e sotto la morte il padre nostro che è nei cieli non ci può lasciare è costretto per l'impegno suo della paternità a redimerci e terzo ci prepara proprio perché è il nostro padre la grande eredità l'eredità dell'essere per sempre con lui perché noi siamo la sua eredità la realtà preziosa che attendiamo si riverbera anche in noi perché noi siamo la realtà più preziosa che egli ha e a questo punto potremmo concludere questo primo abbiamo sviluppato solo il primo tema la dimensione teologica vedete la densità anche del discorso di Paolo e lo potremmo concludere naturalmente immaginando il canto corale di risposta della chiesa e qui lo troviamo disperso nel resto della lettera nel resto della lettera abbiamo anche la chiesa che ha scoperto come noi tutti insieme abbiamo contemplato questo pensiero di Dio noi oggetto del suo infinito remoto perfetto eterno mistero pensiero noi insieme lo ringraziamo ed ecco come lo fa lo ringraziamo l'abbiamo letto poco fa in 321 a lui la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli ma io vorrei usare invece come ringraziamento come sintesi quasi di tutto questo discorso un versetto che c'è nella seconda parte della lettera al capitolo 4 al versetto 6 con una formula di risonanza greca Paolo l'autore conosce bene la cultura greca e in questo caso la usa io ve lo leggerò anche in greco questo testo è un greco un linguaggio assonante ve ne accorgerete anche senza conoscere il greco sentirete il suono in questi vocaboli avrete la possibilità di vedere proprio la sintesi di tutto questo discorso e il discorso è proprio quello di una profonda unità di tutto l'essere tutto l'essere è intestato è ricapitolato in Dio che però per noi è padre non soltanto creatore in greco 4.6 si dice eis feos caipater panton oepi panton caipi diapanton caip entasi e capite che qui tradurre è sempre svilire questo suono così solenne affidato poi come vedete a una frase che in pratica che non ha verbi uno solo Dio eis un Dio uno solo caipater panton padre di tutti tutti o tutto anche tutte le cose no qui è tutti però subito dopo si dice non solo tutti noi tutti noi uomini se volete credenti chiamati tutti alla salvezza oepi panton che è al di sopra in questo caso è il creatore immenso quasi imperatore e pastore dell'essere oepi panton caip diapanton che agisce passando nell'interno dià e tutte le cose e e qui la finale caip en pasin che è anche dentro ognuna di queste cose e qui dovremmo sempre di fatti la traduzione della cei deve usare proprio la traduzione che avete in mano dei verbi e spiegare un solo dio padre di tutti che è al di sopra di tutti agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti certo ha fatto la parafresi ha spiegato ha spiegato questa dimensione ontologica come si dice una presenza cioè reale efficace nell'essere ma anche una presenza dinamica agisce però il greco invece non aveva bisogno di nessun verbo risuonava continuamente questa divinità che sta sopra tutto abbraccia tutto si rivolge tutto avvolge tutto anche alcune volte sconvolge con la sua presenza lei ha bisogno solo di questa rappresentazione la divinità che sta sopra Dio che è sopra di tutto e il tutto che lo circonda ma c'è quella parola che risuona per il tema Paolino pater padre eis theos cai pater panton oe pi panton cai dia panton cai empasin e a questo punto io non leggo la eulogia tutto l'inno perché non abbiamo assolutamente tempo di poterlo fare lascio a voi la lettura di questo bellissimo inno che il capitolo primo dal versetto terzo al versetto quattordici ho detto è un eulogia una benedizione è una benedizione che tra l'altro sarebbe stato bello anche farvi vedere questo è una parte che ho metto tra parentesi con dolore devo dire perché mi piacerebbe poterlo fare ed è la mostrarvi come anche questo inno è stato costruito in maniera raffinatissima persino sofisticata tre participi tre verbi proprio una costruzione in modo tale che il movimento sia a strofe se volete o sia anche a onde così che il lettore si lasci quasi avvolgere e condurre nell'interno di questa che non è solo vedete una preghiera è anche teologia perché la vera teologia non è semplicemente speculazione approda alla fine neanche alla confessione e passiamo al secondo tema la dimensione cristologica probabilmente ci fermeremo solo qui le altri due due temi svilupperemo più brevemente la prossima volta la dimensione cristologica abbiamo detto che la chiesa la comunità di credenti l'umanità che è chiamata la vocazione della fede appartiene al grande progetto del padre ma questo progetto ha la sua attuazione in cristo perché cristo viene nel mondo e cristo è colui che costruisce questi famosi orizzonti prorisas quella predestinazione è in azione il pensiero di dio è efficace è efficace attraverso il figlio che entra nel mondo ed ecco allora il primo elemento e questo su questo possiamo facilmente muoverci perché ormai abbiamo già gli elementi cristo arriva e mette insieme tutto l'essere vedete che per paolo e questa è un'intuizione veramente paolina rette a lettere romani capitolo ottavo per esempio per paolo la chiesa è più piccola della del progetto salvifico di dio cristo è più grande della chiesa ha una una funzione una missione ben più grande che fondare una chiesa che fondare anche la chiesa la comunità dei credenti di tutti i credenti sotto tutti i cieli in tutte le epoche egli viene prima di tutto per salvare l'intero essere infatti nel versetto 10 l'abbiamo visto pienezza dei tempi e ricapitolare in cristo tutte le cose nel versetto 22 attraverso la citazione del salmo di un salmo salmo 8 si dice tutto infatti il padre ha sottomesso ai piedi del cristo e lo ha costituito su tutte le cose a capo della chiesa vedete che esiste una funzione di collegamento però il disegno primario che deve realizzare il cristo è su tutte le cose ed egli lo esercita stando sul trono della chiesa stando a capo della chiesa vedete che perciò la funzione della chiesa è una funzione che va oltre i suoi piccoli confini fa parte di un disegno dicevo di un orizzonte che è molto più ampio ma noi sappiamo ed è questo il tema che invece ci interessa che Paolo vuole soprattutto sviluppare il rapporto cristo e chiesa e lo fa lo vediamo adesso attraverso una espressione che merita di essere considerata attentamente quella che abbiamo letto parzialmente ora nel versetto 22 che è invece in pienezza nei versetti 22 e 23 del capitolo primo leggiamo tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le cose a capo della chiesa la quale è il suo corpo la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose e qui abbiamo il linguaggio paolino o linguaggio comunque dell'epistolario paolino piuttosto denso tra l'altro con evidenti rimandi prima di tutto abbiamo questo concetto cristo e chiesa sono in un rapporto un rapporto ancora una volta somatico come era nella prima lettera ai corinzi ovvero sia la chiesa è corpo di cristo è quindi una parte rilevante del suo esistere del suo manifestarsi l'uomo sulla faccia della terra come si manifesta attraverso il corpo il corpo noi sappiamo non è assolutamente una un appendice dell'anima il corpo nella visione biblica è grande segno dell'esistenza dell'individuo della persona e della sua comunicazione ed è per questo motivo che allora si dice che cristo in un certo senso col suo corpo ormai glorioso si manifesta nell'interno della chiesa la chiesa è un po' il suo corpo visibile col quale si comunica col quale continuamente salva parla per questo è gravissimo il compito della comunità dei credenti guai ad essere un corpo di ossa spezzate guai ad essere un corpo deforme perché si violenta il cristo stesso questo tema viene ripetuto a più riprese guardate per esempio in 2.16 per riconciliare tutti e due i popoli con dio in un solo corpo per mezzo della sua croce questo corpo è il corpo di cristo potete vedere in 4.4 un solo corpo un solo spirito in 4.12 per rendere i doni i fratelli a compiere del ministero al fine di edificare il corpo di cristo in 4.15 16 al contrario vivendo secondo la verità nella carità cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di lui che è il capo cristo dal quale tutto il corpo ben compaginato e connesso mediante la collaborazione di ogni giuntura secondo l'energia propria di ogni membro riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità ho detto che il linguaggio della lettera degli efesini è piuttosto complesso qualche volta anche ridondante ma qui vedete una descrizione perfetta dell'immagine del corpo applicata naturalmente a cristo alla chiesa corpo compaginato connesso in cui tutte le giunture sono in funzione tra di loro e in cui l'energia di ogni membro è facilmente compatibile l'una con l'altra perché scivola scorre nell'interno di tutto l'essere ancora l'abbiamo in 5 nel capitolo 5 nell'interno del versetto 23 il marito è capo della moglie come anche cristo è capo della chiesa lui che è il salvatore del suo corpo e ancora l'abbiamo in 5 30 questo tema poiché siamo membra del suo corpo voi vedete che il concetto è dominante è una specie di filo musicale continuo filo teologico che percorre tutta la lettera questa che la chiesa sia corpo di cristo questo principio di manifestazione del mistero di cristo nell'interno del tempo e dello spazio il cristo glorioso che continua ad agire attraverso il corpo fisico che è la chiesa che è la comunità dei credenti però si dice qualcosa di diverso rispetto alla prima lettera ai corinzi perché fino a questo punto siamo ancora nello spirito della lettera ai corinzi qui si dice si aggiunge un altro concetto si aggiunge che cristo è presente nell'interno di questo corpo come pleroma pleroma tutta panta in pas in pleromenu si dice nel versetto 23 anche questa traduzione del capitolo primo traduzione non facile la pienezza di colui che si realizza interamente in tutte le cose la pienezza vedete pleroma e plerumenu questa parola che continua a risonare è la parola tipica di questa lettera e anche della lettera dei Colossesi il pleroma è un concetto questo difficile da spiegare io ve lo voglio soltanto per ora rappresentare proprio attraverso l'immagine del pieno non quantitativamente preso ma qualitativamente assunto se noi immaginiamo una energia che penetra nell'interno di un corpo noi riusciamo a capire che l'energia può diffondersi nell'interno di tutto quel corpo senza per questo cancellarlo senza per questo prevaricare su di esso espellendolo espellendone la materia il concetto quantitativo vuol dire un vuoto e io nel vuoto metto qualcosa riempio un vaso vuoto questa è la pienezza vaso pieno dal vaso vuoto questo è un concetto quantitativo non è il vero concetto del pleroma il pleroma paolino invece è un concetto dinamico Cristo porta la vita di Dio in sé in maniera piena lui è il pleroma perfetto e il suo scopo è quello di far sì di diventare lui plerumenos colui che riempie che dà pienezza che pervade che penetra come energia vivificante e salvante nell'interno di tutto l'essere dell'uomo il quale non cessa di essere creatura per cui non avviene un fenomeno quasi direi di cancellazione della creaturalità in una specie di panteismo l'uomo annullato l'uomo continua ad essere età ma l'uomo viene enetrato sostenuto avete sentito prima quell'immagine dell'energia che Paolo stesso aveva usato e l'ultimo elemento che viene indicato e proprio l'abbiamo sentito il concetto di pleroma è ripetuto spessissimo nell'interno della lettera ancora ve lo voglio far sentire perché abbiate tutti a comprendere come sia un altro dei motivi della lettera lo ritroviamo per esempio in 3.19 conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio una pienezza d'amore in questo caso conoscere biblico poi lo ritroviamo in 4.10 colui che discese dal cielo e lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose è brutta traduzione questa per dare pienezza a tutte le cose verbo ancora plenoma plerun e ancora nel capitolo 4.13 sentite questo com'è significativo finché arriviamo tutti all'unità della fede della conoscenza del figlio di Dio allo stato di uomo perfetto nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo e qui la traduzione ha fatto un po' perdere il concetto ma lo potete sentire bene che cosa deve essere mai l'uomo deve diventare come Cristo uomo perfetto nella misura che conviene alla maturità della pienezza di Cristo si dice in greco e si dice piena maturità ma è qualcosa di diverso non è semplicemente crescere come è cresciuto lui nella pienezza della sua umanità no è raggiungere la maturità la misura della maturità della pienezza cioè la sua pienezza deve alla fine allargarsi sia avvolgere completamente l'esistenza dell'uomo stesso e da ultimo abbiamo ancora il concetto di pleroma in capitolo quinto al versetto diciotto quando si parla della pienezza dello spirito siate ripieni dello spirito ricolmi dello spirito lo spirito è la manifestazione del Cristo risorto in noi ultimo elemento che dobbiamo definire abbiamo detto che Cristo è connesso a come corpo la chiesa secondo abbiamo parlato del pleroma la pienezza da comprendere correttamente e da ultimo abbiamo l'ultimo elemento che è invece la chefale la testa Cristo è presente nell'interno della chiesa non semplicemente aggregando a sé la chiesa come corpo la chiesa perciò ha una sua identità vedete che c'è lo sforzo di conservare alla creatura il suo statuto non scioglierla non metterla come in una soluzione d'acqua infinita d'acqua divina quasi di spirito divino in cui si disperda e resti soltanto il Cristo che è poi il figlio no, noi siamo figli adottivi noi restiamo creature egli è presente però come capo e qui capo chefale ha un po' tutto il significato che anche la cultura greca dava al capo alla testa come principio radicale dell'agire dell'esistere del pensare del vivere come elemento fondamentale e costitutivo di tutta l'armonia dell'essere umano e Cristo allora diventa e qui ritorniamo a quel concetto che abbiamo già visto balenare per tutto l'essere ve lo ricordate 1-10 quando Paolo ha usato l'immagine del capitulum del chefalaion o chefale ana chefalaiosastei Cristo è questa specie di capitulum vedete che là non si usa il termine chefale probabilmente perché la testa il rapporto con l'uomo è un rapporto molto più intimo con tutto l'essere è un rapporto di ordinamento di armonia di organizzazione di tutto l'essere con noi è un rapporto molto più profondo quello che intercorre tra le membra e la testa e il capo concludiamo con le parole e si fermiamo solo qui a questi due punti annuncio gli altri due punti le altre due dimensioni del concetto di chiesa che svilupperemo nel prossimo incontro la dimensione ecumenica della chiesa e qui ci sono delle pagine bellissime potremo un po' anche respirare maggiormente dopo aver fatto questo percorso più rigorosamente teologico e poi la dimensione strutturale la chiesa ha una sua configurazione con degli ambiti ben precisi con una sua organizzazione ben precisa concludiamo voglio concludere con due considerazioni la prima vi leggo una frase sintetica di un commentatore che ho già citato l'ultima volta di Romano Penna della lettera agli Efesini che riassume un po' il discorso che abbiamo fatto noi naturalmente il nostro è stato un discorso un po' più teso un po' più denso mondo e chiesa formano due cerchi concentrici ricordate il tema dell'orizzonte degli orizzonti sottoposti alla stessa signoria di Cristo ma solo la chiesa è il pleroma di Cristo cioè l'ambito pienamente colmato della sua presenza della sua energia della sua grazia dei suoi doni col quale con questo ambito Cristo ha un rapporto non solo di trascendenza ma anche di immanenza non è soltanto il suo signore creatore come sta sopra tutte le cose ma è anche ha con esso con la chiesa un rapporto di intimità di coesistenza di immanenza e non per nulla quando Paolo e arriveremo la prossima nota in capitolo quinto deve rappresentare il rapporto tra Cristo della chiesa e lo deve rappresentare con un'immagine non più con la riflessione col suo pensiero avete visto rarefatto anche che abbiamo cercato di seguire oggi che cosa userà userà come immagine quella che i profeti gli hanno insegnato a partire da Osea userà l'immagine nuziale se devo parlare di questo rapporto altro non ho che questo paragone continuamente affermato dalla profezia il rapporto Dio e uomo il rapporto Dio e Israele il rapporto Cristo e Chiesa il rapporto tra l'uomo e la donna nell'atto d'amore tra lo sposo e la sposa in un legame che non deve essere mai spezzato alla radice perciò dice in ultima analisi Paolo c'è l'amore di Dio e la seconda considerazione che volevo fare è semplicemente questa voglio congratularmi con voi che siete stati capaci di stare attenti per tutta quest'ora grazie a tutti